Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con un'ampia Pagina dedicata al covid nella nostra regione perché sono quasi 1921 per la precisione i nuovi casi riscontrati oggi in Abruzzo E come prevedibile assalto agli hub vaccinali e alle postazioni drive-in per i tamponi Sono 921 di età compresa tra 1 e 95 anni i nuovi casi positivi al covid registrati oggi in Abruzzo Con un tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici pare al 2,74% Numeri dunque in continuo aumento a cavallo tra Natale e Capodanno con ricoveri in area medica in aumento Sono infatti 172 pazienti più 12 rispetto a ieri ricoverati in ospedale in area non critica Mentre 24 numero invariato in terapia intensiva Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi di età compresa tra 37 e 89 anni Uno in provincia di Chieti e due in provincia di Pescara E il triste bilancio sale a 2634 La provincia dell'Aquila è la più colpita con 311 nuovi casi Segue le pescarese con 240 Poi Chieti e Teramo quasi a braccetto rispettivamente con 168 e 164 positività in più rispetto a ieri E i numeri di questi giorni hanno fatto scattare la corsa a vaccini e tamponi I disagi che si sono registrati al drive-in di Lanciano nelle ultime ore Hanno indotto la direzione ASL a emanare un provvedimento per disciplinare l'accesso alle diverse postazioni Anche se le difficoltà si sono avute solo nell'area frentana Al drive-in hanno accesso libero ma con prescrizione del medico minori e positivi al tampone antigenico Documentato da referto e gli altri utenti solo con prenotazione Alla luce dei numeri e delle migliaia di tamponi che il laboratorio dell'università d'annunzio si trova a processare I referti saranno disponibili entro 48 ore Grazie al lavoro e all'impegno profuso in questi giorni di festa dai professionisti guidati da Liborio Stupia L'ASL di Teramo invece torna a raccomandare di prenotarsi attraverso il sistema poste In modo da evitare il disagio di lunghe attese e nel contempo favorire l'organizzazione del lavoro al personale sanitario Per quanto riguarda i vaccini Ci sono 17.000 slot liberi fino al 31 gennaio nei centri vaccinali del Teramano Per dare ulteriori risposte alle richieste della popolazione durante le festività sono state organizzate iniziative straordinarie Il 2 gennaio al Palasport di Via Po a Silvi dalle 8 alle 20 Sarà organizzato un open day anche in questo caso è raccomandata la prenotazione Verrà data la possibilità di vaccinarsi anche a chi non ha l'appuntamento ma con tempi diversi A Giulianova invece il centro vaccinale I Pioppi terrà una giornata interamente dedicata alle vaccinazioni Sempre il 2 gennaio e altre due mattinate dalle 9 alle 14 Mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio sempre con prenotazione A Pescara invece il Partito Democratico chiede un radicale cambio di rotta Sulla gestione delle somministrazioni dei vaccini degli ultimi mesi L'apertura dell'hub vaccinale nella stazione di Porta Nuova Dicono i democratici arrivate in ritardo dopo l'incredibile scelta iniziale dell'Outlet Village Non basta più alla luce dell'accelerazione sulle terze dosi e del vaccino per la fascia di età 5-12 anni C'è bisogno urgente di aprire un ulteriore hub dove poter somministrare anche Pfizer La città non regge con uno solo spiegano i consiglieri comunali E non comprendiamo le ragioni di questa sottovalutazione da parte della Giunta Che solo dopo le nostre denunce ha attivato il centro di Porta Nuova In parziale sostituzione dell'unico hub aperto a quel tempo nell'Outlet Village di Città Sant'Angelo E da oggi stop al tampone molecolare di conferma per la positività al Covid Riscontata attraverso un test antigenico Lo comunica l'assessorato alla sanità dopo l'invio di una circolare Trasmessa oggi pomeriggio alle Asle abruzzesi Si raccomanda, si legge, ai dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti Di riservare il test di conferma alle sole condizioni ritenute indispensabili Come ad esempio la necessità di effettuare una valutazione preliminare Per la possibile presenza di variante Omicron Alla ricezione del referto di positività attraverso il sistema telematico L'autorità di sanità pubblica dovrà provvedere solo alla prenotazione del tampone molecolare Di fine isolamento per il soggetto positivo e di fine quarantena per i suoi contatti Secondo le tempistiche già previste dai protocolli sanitari vigenti La disposizione regionale si è resa necessaria alla luce dell'insostenibile sovraccarico operativo Che si registra in tutte le strutture negli ultimi giorni E tiene conto del perfezionamento delle performance analitiche dei test antigenici attualmente in uso Che rende meno rilevante l'eventualità di falsi negativi E come abbiamo visto trend dei ricoveri in aumento in regione Nelle ultime settimane è raddoppiata l'occupazione delle terapie intensive In particolare a Chieti sale il fronte dei contagiati bisognosi di cure ospedaliere Il dato preoccupante è che l'80% dei pazienti che hanno quadri respiratori gravi sono non vaccinati Il direttore della clinica di malattie infettive Jacopo Vecchiet parla di grave responsabilità per chi scredita i vaccini Qual è la fotografia epidemiologica che abbiamo attualmente considerato il suo reparto? Questi numeri vanno sempre messi a confronto con i giorni precedenti Quindi direi che il lato negativo di questi numeri è che non sono in assoluto alti Ma che abbiamo visto un trend in aumento E siccome una percentuale di quei pazienti che viene riscontrata positiva sul territorio Ha bisogno poi di cure in ospedale Noi abbiamo visto una progressione anche dei ricoveri di pazienti che hanno l'insufficienza respiratoria E quindi hanno bisogno di supporto di ossigeno Adesso quanti casi di varianti le ha qui in reparto e soprattutto che tipologia di pazienti ci sono? Ma guardi io direi che la tipologia la suddividerei in due grossi elementi Cioè il vaccinato e il non vaccinato L'80% dei pazienti che hanno quei quadri respiratori che noi non avremmo più voluto vedere E che purtroppo siamo costretti Sono in soggetti che purtroppo non hanno fatto la vaccinazione E quindi i quadri clinici sono molto simili a quelli che noi vedevamo l'anno scorso Nel soggetto vaccinato la clinica è un po' diversa Le terapie sono anche più funzionali Anche il supporto di ossigeno è meno importante E soprattutto abbiamo pazienti vaccinati che si rivolgono all'ospedale Per altre motivazioni Non per l'insufficienza respiratoria Per quanto riguarda invece il suo appello a chi magari avesse ancora dubbi per la vaccinazione Ma guardi la mia esperienza personale che poi è quella che hanno fatto chiunque Chiunque si occupa di questa patologia è che il vaccino ha un valore protettivo enorme Il fatto che sia utile fare la terza dose deve rafforzare nell'idea che questo vaccino funziona E chi scredita la vaccinazione secondo me commette un grave errore Nei confronti dei singoli che poi si ammalano Ma nei confronti della collettività Perché di nuovo la saturazione dei posti letto in ospedale Possono far cambiare i colori rispetto all'intensità di non potersi muovere Quindi è una grande responsabilità Cambiamo argomento adesso Tempi più stringenti per comuni e cittadini Così da velocizzare la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma E quanto annunciato dal commissario Legnini Il quale prima della fine dell'anno firmerà nuove ordinanze I tempi della ricostruzione li decide lo Stato Questo quanto contemplato in una delle ordinanze Che il commissario Giovanni Legnini firmerà entro la fine dell'anno Dal 2022 il cronoprogramma per la ricostruzione dei centri storici devastati dal terremoto Sarà stabilito in maniera centralizzata Piuttosto che dai singoli progettisti Legnini incontrerà i sindaci ad inizio anno A noi lasciamo liberi, è giusto lasciare liberi cittadini Di scegliere, di decidere, di fare ciò che vogliono Ma se lo Stato deve investire somme enormi per ricostruire questi centri storici Beh, dopo cinque anni è giusto che i tempi, i programmi Li detti lo Stato che finanzia questi interventi Non che lo decidano E vengo all'altra domanda Tra Abruzzo, Umbria e Marche sono circa 60.000 gli edifici da dover ricostruire I progetti presentati però finora sono stati solamente 29.000 Per convincere coloro che al momento non hanno interesse nel recuperare la propria casa Legnini ha stabilito al 30 giugno il limite massimo entro cui presentare i progetti Chi non lo farà rischia di perdere il contributo di autonoma sistemazione E anche chi è nelle casette SAE potrebbe essere sanzionato Probabilmente dovendo pagare un affitto Devono presentare i progetti Mi sembra che dire entro giugno dovete presentare i progetti A chi sta fuori casa non è una forzatura o una minaccia Ci sarà una sanzione anche per chi non lo farà Chi non lo farà entro il 30 giugno Noi non lo facciamo ne cadere al contributo Non è giusto Non me la sento di farla questa cosa Ma d'accordo con Fabrizio Cuccio Con l'ingegner Cuccio che gestisce queste cose Si prevederà nell'ordinanza che firmerò al massimo entro il 31 dicembre Perché aspettiamo la parlazione della legge di bilancio Si prevederà la sospensione del CAS Non presenti il progetto Non percepisci più il CAS Oppure paghi il canone Si presenti il progetto Torni a percepire il CAS Mi sembra una cosa ragionevole Perché noi abbiamo il dovere Abbiamo il dovere anche di curare L'economicità dell'azione amministrativa A seguito dei terremoti sono stati stimati danni per 26 miliardi di euro A disposizione ce ne sono 14 Riusciremo ad andare avanti per qualche anno Ha detto Linnini Grande attesa nel 2022 per i fondi del PNRR Che nella fascia peninica serviranno anche per colmare il digital gap Per le infrastrutture e per 4 centri di ricerca Frutto di un accordo tra gli 11 atenei del territorio Il commissario è soddisfatto per la proroga in legge di bilancio Del super bonus al 110% per le aree terremotate fino al 2025 Ma mancano alcune questioni che spero saranno contemplate nelle mille proroghe Ha detto Linnini Ovvero la proroga della sospensione dei mutui per privati e comuni E il rimborso dell'Atari per i comuni Nelle aree colpite dal sisma nel 2021 sono stati aperti 5 mila cantieri Di cui 2.585 sono stati ultimati Faceva la propaganda jihadista inviando video e foto su Whatsapp E pubblicandoli sul suo profilo Facebook Su richiesta della DDA dell'Aquila accolta dal giudice È stato arrestato il 31enne pakistano Faisar Slan Per isticazione a delinquere Il giovane residente a Francavilla al mare Era già stato colpito ad agosto Da un provvedimento di espulsione Emesso dal prefatto di Chiedi Avrebbe inoltrato via Whatsapp Video e fotogrammi di propaganda jihadista Palesando una esplicita attività di isticazione A commettere i delitti di partecipazione Ad associazioni con finalità di terrorismo Ed attentati terroristici I carabinieri del Rossa hanno eseguito Lo scorso 15 dicembre a Bari Un decreto di fermo disposto dalla DDA dell'Aquila Nei confronti del 31enne pakistano Arslan Fais Il fermo è stato convalidato dal giudice E il competente GIP di L'Aquila Su richiesta della procura Ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare A carico del Fais Con l'accusa di isticazione a delinquere Aggravata dalla finalità di terrorismo Le indagini hanno documentato Un rapido ed intenso processo Di autoradicalizzazione islamica Che aveva assunto connotazioni estremiste Di natura salafita E una continua attività di propaganda apologetica Tramite Facebook Consistente in post e commenti A favore dei metodi terroristici E delle vittorie delle milizie talebane Lo straniero, già residente a Francavila al Mare Da circa tre anni E impiegato come autolavaggista Era stato precedentemente colpito In data 18 agosto scorso Dal provvedimento di espulsione Dal territorio nazionale Per ordine e sicurezza pubblica Emesso dal prefetto di Chieti E si trovava perciò in attesa Dell'esecuzione del rimpatrio coattivo Consiglieri e segretari regionali Del partito Hanno stilato un bilancio Dell'attività del PD Nel 2021 Secondo il cappogruppo In regione Silvio Paolucci Pur nel ruolo di opposizione Il partito ha dato Importanti risposte ai grandi temi E poi l'attacco al presidente Marsilio Non ha mantenuto la promessa Di abbassare le tasse Un bilancio quello del 2021 Positivo per quanto riguarda Il PD E ovviamente il PD Abruzzese Il PD è tornato ad essere Secondo i rilevamenti Il primo partito Ma soprattutto è stato un partito Vicino ai grandi temi E alle grandi questioni Dando risposte Il PD Della salute Del lavoro Del PNRR Il rapporto con l'Europa Che si è finalmente invertito Del rilancio Della ripresa E ovviamente A favore E a fianco Della scienza Per combattere insieme Questa pandemia Così anche in questa regione Nel combattere un presidente Presidente Marsilio Che a volte di circostanze È troppo spesso Più il presidente Di Fratelli d'Italia Che il presidente Della regione Abruzzo Per le sue dichiarazioni Le sue affermazioni Sulla salute Sulla questione dei Novax Sulla questione relativa Alla sanità Dove sta producendo Un debito E ribalta sempre Le responsabilità Al governo Ecco Un lavoro Oggi di opposizione Ma che ha anche Costruito Come i risultati Dalle provinciali Alle amministrative Comunali Hanno dimostrato E che ovviamente Rilancia un progetto nuovo Per il 2022 Viene meno La più grande Promessa elettorale Del governo Marsilio Avevano promesso Con una norma Inserita peraltro A inizio 2020 Che avrebbero tagliato Le tasse Ecco Gli abruzzesi Possono ormai Dire addio A questo taglio Delle tasse Perché è questa La gestione Di chi vuole Assolutamente Prenderci in giro Come il governo Marsilio Ha dimostrato In questi mesi Si chiude positivamente Il bilancio 2021 Della provincia di Teramo Spesi a favore Del territorio 40 milioni di euro In viabilità E infrastrutture In programma Sono già disponibili Circa 180 milioni di euro Per nuovi investimenti Tania Bonici Castelli Per la provincia di Teramo Il 2021 Si chiude Con un bilancio Di opere Realizzate Di finanziamenti Intercettati Molto positivo Sono stati immessi Nell'economia locale Oltre 40 milioni di euro Nella programmazione Pluriannale Ci sono Complessivamente Circa 180 milioni Di finanziamenti Da spendere Per il presidente Diego di Bonaventura I dati Parlano da soli I dati Sono incontrovertibili E nel 2021 Sono stati immessi Sul territorio Come opere fatte 40 milioni di euro Di opere Fatte sul territorio Questo è il dato Che è incontrovertibile Arriveremo nel 2022 A fare quelle altre Richieste Che abbiamo in costo Questo è quello Che abbiamo fatto Io devo ringraziare La mia squadra E tant'è Il frutto anche Delle elezioni provinciali E il buon lavoro fatto Questi dati Sono anche il frutto Delle elezioni Che abbiamo vissuto Perché i consigli comunali Hanno percepito Realmente Quello che noi Gli dicevamo E quello che Abbiamo fatto Sui territori Hanno visto con le mani La percezione Dico io Di quello che abbiamo detto E il riscontro È stato parese Nella mia squadra Tant'è che Il 70% è stato riconfermato Sui banchi Del consiglio provinciale Abbiamo Io l'ho detto Le tre linee parallele La visione strategica L'ordinario 40 milioni di interiore Sulle strade E lo straordinario La visione strategica Bilancio positivo E dati eccellenti Ma c'è una spina Nel fianco della provincia Di Teramo Ancora lì È dolorante Sono gli impianti Sciistici Di prati di Tivo Non ancora funzionanti Abbiamo l'unica E io lo dico Perché bisogna sempre capire Non pensavo che i prati Ecco potessero Essere Ecco Il mio punto debole Il nostro punto debole Perché sui prati di Tivo Sinceramente Ecco Ancora Non riusciamo a fare L'impegno che abbiamo Abbiamo preso Nel dettaglio Fra strade Scuole E opere infrastrutturali La provincia di Teramo Complessivamente Ha 180 milioni da spendere E tanti ne ha già spesi È stato un anno Estremamente positivo Per la provincia di Teramo 40 milioni di investimento Tra viabilità Edita scolastica Un dato estremamente importante 160 milioni Per la programmazione Purorennale Che vedrà impegnata La provincia A realizzare Importanti infrastrutture Per i prossimi 5-6 anni È sicuramente Una iniezione Anche di fiducia Per il mondo Inveritoriale Aver immesso Anche Dato la possibilità Comunque al settore Economico Di poter risollevarsi Con la crisi Che abbiamo avuto Del lockdown Soldi che comunque Hanno creato Dei benefici Per la nostra provincia Un 2021 in chiaroscuro A livello di difesa Dell'ambiente Il WWF Abruzzo Nel fare il bilancio Dell'anno Che sta per chiudersi Parla anche Del problema Del parco Benino Sirente Paolo Lorenzetti È tempo di bilanci Anche per il WWF Abruzzo Finomeno Ricci È stato un anno Complicato Difficile Sono stati raggiunti Diversi obiettivi Ma c'è anche qualcosa Che non è andato Per il verso giusto Come ci suol dire? Sì Un anno Che continua Ad essere Difficile Sicuramente Non Non Di facile approccio Per tutti Anche per il mondo Del volontariato Purtroppo Il 2021 Per la nostra regione È stato un anno In cui ricordiamo Il taglio Dell'unico parco regionale Il Sirente Velino Il cui perimetro È stato ridotto Con una delibera regionale Il WWF Insieme ad altre associazioni Ha richiesto L'impugnativa al governo E adesso siamo in attesa Dell'esito Della consulta Purtroppo Questo segna Una pagina scura Per l'Abruzzo Che vuole essere Una regione Che punta le aree protette E alla natura Per fortuna C'è anche qualcosa Di positivo Nel senso Che vediamo Nelle persone Crescere La consapevolezza Dell'importanza Della conservazione Dell'ambiente Anche per il proprio Benessere Di salute Per stare bene E vediamo Che le nostre oasi Le riserve regionali Sono sempre molto attrattive E ospitano Tantissimi visitatori Per quanto riguarda Il nuovo anno Il 2022 Gli obiettivi del WWF Nella nostra regione Gli obiettivi del WWF Sono sempre quelli Di puntare Alla conservazione Della natura Quindi all'implementazione Delle aree protette Per esempio A un'interlocuzione Con il mondo Dell'agricoltura Con il mondo Venatorio Perché si faccia Finalmente Un calendario Che non venga Ogni volta Impugnato E bloccato Ma che sia Veramente rispettoso Della fauna Cercheremo Di aumentare Il numero Di persone Che ci aiuta Perché solo Con tantissime Persone Tanti volontari Riusciamo a fare Ad essere presenti Nelle azioni Che si fanno Sul territorio Chiederemo Nuove programmazioni Per la nostra regione Cioè che i fondi europei Vengano veramente utilizzati Per fare dei programmi Più ampi Di rilancio Anche per esempio Avevo parlato Della montagna Anche però Pensiamo alla costa Dove purtroppo Assistiamo ancora A progetti antichi Antiquati Di cementificazione Quando ci vorrebbe Qualcosa di più innovativo Per il rilancio Di un posto unico Come la Costa Verde Dei Trabocchi Bilancio anche Per il sindaco Di Ortona Leo Castiglione Che questa mattina Ha incontrato la stampa Il primo cittadino Annunciato che si Ricandiderà Al termine del suo mandato Previsto per maggio 2022 Sindaco Castiglione È stato un anno Difficile Il 2021 Un anno condizionato Dall'emergenza sanitaria Lei oggi in conferenza stampa Però ha elencato E ha rivendicato Anche i successi Della sua amministrazione Quello che siete riusciti A fare in quest'anno Un lavoro costante Che dal primo giorno Mettendo mano A un bilancio A una macchina comunale Che era un po' Ingolfata L'abbiamo sistemato Soprattutto appunto Il bilancio Le casse comunali Del comune E siamo passati addirittura Da un'anticipazione Di cassa Di un milione e mezzo Nel 2017 Oggi abbiamo Un segno positivo Di 4 milioni Questo permette Di avere una liquidità Di cassa Permette di poter Amministrare Serenamente Di pagare Chi fornisce servizi Al comune Addirittura Entro Con meno di 30 giorni Di attesa Questo è un grosso risultato E questo poi Con la macrostruttura Che abbiamo riorganizzato Ha dato Dei frutti importanti 15 milioni Di investimenti In opere pubbliche Dai lavori Nelle strade Extraurbane Nel centro urbano Nelle scuole I cimiteri Insomma Nei servizi Nei beni Insomma Abbiamo lavorato tantissimo L'abbiamo fatto In piena pandemia Proprio Cercando di lanciare Quel messaggio Di speranza E di fiducia Ai cittadini Con il lavoro E senza piangerci addosso Noi siamo in attesa Veramente con molta impazienza Di questo finanziamento Perché credo che La funiculare L'impianto di risalita Che dalla pista ciclabile Riporteranno i ciclisti E i turisti Ad Ortona centro Credo che rappresenterà Il fiorallocchiello Non solo di Ortona Ma della costa Dei Trabocchi E della regione Abruzzo A maggio scadrà Il suo mandato Lei si ricandiderà Sindaco di Ortona? Stiamo già lavorando Per il futuro Portando avanti Il nostro progetto civico Chiederemo Alla città Ai nostri concittadini Di dare continuità A questa amministrazione Saranno ufficializzate domani Durante l'ultimo consiglio comunale Del 2021 Ma Mario Nunez Sindaco di Roseto degli Abruzzi Ha voluto già in mattinata Annunciare quali saranno Le deleghe per i consiglieri Che andranno ad affiancare Gli assessori Per il raggiungimento Degli obiettivi Posti dalla coalizione Spazio Civico In campagna elettorale Stefano Recanati Tempo Competenza E gioco di squadra Su questi tre aspetti Fondamentali Si base il lavoro Della macchina amministrativa Di Roseto degli Abruzzi E del nuovo sindaco Mario Nunez Il primo cittadino Punta Molto sul gioco di squadra E perciò Dopo aver assegnato deleghe Agli assessori Questa mattina Proveduto a conferire Incarichi Anche ai consiglieri Di maggioranza Oggi si completa Ma soprattutto Parte in maniera più decisa Il nostro volere essere squadra Oggi ufficialmente I miei consiglieri di maggioranza Prendono in carico Delle deleghe importanti Delle deleghe amministrative Delle deleghe che saranno Appunto a supporto Del sindaco stesso Che comunque rimane Il delegato Secondo quello che Il Tuel In qualche modo impone Ma hanno Una loro autonomia Hanno Se non il potere di firma Che non gli viene attribuito Ma il potere di essere Operativi E di poter risolvere i problemi Rosetta è una città La seconda città Della provincia di Teramo La prima della costa Teramana E baricentrica Ha una grande potenzialità Io credo che negli anni Il non lavoro adeguato Di chi invece Ha ricoperto dei ruoli Ha fatto perdere Delle quote Ha fatto perdere Qualche modo Delle potenzialità Tra le deleghe Torna a distanza di anni Quella dei consigli di quartiere Assegnato a Vincenzo Addazzi Di casa civica Obiettivo Fare entrare in municipio Le esigenze Delle contrade Il problema delle frazioni A Roseto Negli ultimi anni C'è molto stato Mi sono sempre adoperato Per le frazioni Infatti è stato Diciamo Lo slogan Della mia campagna elettorale Perché ecco Mi sono Sempre dato da fare Con la squadra Di Mario Nugnes E quindi Diciamo che Ecco E' una Maruccino di Chieti Un curriculum di alto profilo Quello di Giuliano Mazzoccante Che promette Spazio ai giovani E una programmazione Di respiro internazionale Selenia Secondi Il maestro Il maestro Mazzoccante Succede a Ettore Pellegrino Che resterà fino al 2026 Direttore artistico Dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese E garantirà La sua avvicinanza Al Maruccino Grande emozione Grande gioia Ma più di tutto Grande senso di responsabilità Perché mi rendo conto Che l'incarico Che mi è stato Dato Mi richiede Un impegno enorme Richiede altissima qualità E richiede veramente Che io faccia Tutti gli sforzi possibili Per rendere onore A un luogo Al luogo più prestigioso Che noi abbiamo Nella regione Abruzzo Questo teatro meraviglioso Il teatro Maruccino E in qualche maniera Anche di lavorare Per coinvolgere il pubblico Per rendere coinvolgente Tutto ciò che verrà proposto Per rientrare In qualche maniera Anche nelle case delle persone Riportarle in teatro Il più possibile E Possibilmente anche Riportare i giovani Nel segno della continuità La scelta di Mazzoccante Deriva soprattutto Dal suo profilo internazionale Non vedo l'ora Di poter In qualche maniera Coinvolgere I partner internazionali Che già Mi accompagnano Nelle varie stagioni Concertistiche Nei vari eventi Che durante l'anno Si susseguono Diciamo Nelle varie programmazioni Che mi interessano Ma Credo che sarà Spero Che sarà abbastanza semplice Perché Questa bomboniera così bella Parla da sé In qualche maniera Riusciremo ad allargare i confini Dall'Abruzzo A livello nazionale E ancora di più A livello internazionale La teatinità Ha trionfato Finalmente Si è sfatato Questo tabù Nemo profeta in patria Giuliano Mazzoccante È un grandissimo artista Un grandissimo musicista Un grandissimo direttore Che in questi anni Ha dato tanto Al teatro È cresciuto in questo teatro E soprattutto La città di Chieti E meritava Questo coinvolgimento Questo incarico E questa fiducia Che gli è stata Voluta Tributare Dal consiglio di amministrazione Che ha deciso In piena autonomia Questa nomina Avremo adesso La pagina dello sport Ovviamente partiamo Dalla serie C Ripresa degli allenamenti Il primo gennaio Per il Pescara Sul fronte mercato Invece Si avvicina Il centrocampista Carlo Derisio Dal Bari Già fortemente Voluto in estate Dall'allenatore Gaetano Auteri Andrea Costantini Sarà un capodanno Di ritorno al lavoro Per il Pescara Proprio sabato Primo gennaio I giocatori Si ritroveranno Agli ordini Di Gaetano Auteri Per iniziare A preparare La seconda parte Della stagione Prima tappa Il match casalingo Con la Carrarese Di sabato 8 gennaio Partita nella quale Mancheranno Gli squalificati Ianes e Pompetti E potrebbe essere Un pescareggio Con qualche ritocco Di mercato Che aprirà ufficialmente I battenti Lunedì Carlo Derisio Il primo regalo Che Auteri Potrebbe scartare Per il 2022 Le parti sono vicinissime E il centrocampista Molisano Di Montenero Di Bisaccia Conosce bene I dettami Del tecnico siciliano Che già lo aveva Inseguito in estate Resta un problema Derisio Non ha in pratica Giocato nella prima parte Della stagione E dovrà riguadagnare Una condizione importante Inizialmente finito Fuori lista A Bari Ai primi di novembre È stato reintegrato Per sostituire L'infortunato di Cesare Da allora Appena sette minuti Giocati contro La Vivonese Un mese e mezzo fa Per il resto Tanta panchina Derisio In lista È destinato A prendere il posto Del ivoriano Serichi Sanogo Mai impiegato In campionato Da Auteri Con Val di Fiori Difficilmente cedibile Per l'alto ingaggio Resta da verificare La posizione di Rizzo Che in caso di proposte Può partire Avendo deluso Molto Nelle scorse settimane In avanti Priorità Alle uscite Per Cristian Galano Resta aperta La pista Avellino Come resta aperta L'ipotesi di scambio Col centrocampista Degli Irpini Salvatore Aloi Tuttavia Avellino Monitora altre situazioni Morosini De Lentella Anche qui Scambio con Aloi E Ceccarelli Del Catania Su Galano Potrebbe tornare forte Il Cosenza Che già aveva fatto Più di un tentativo In estate Magari mettendo Sul piatto Il centravanti Luca Pandolfi Per uno scambio Altri giocatori In uscita Sono Guido Marilungo E Milos Bocic L'attaccante marchigiano Di proprietà della Ternana È finito Nei radar Del Mantova Mentre l'esterno Serbo In uscita Con la formula Del prestito Potrebbe tornare in patria L'interessa Al Colubara Su Bocic C'è anche L'interesse Dell'Albinoleffe Gironea Di Serie C In difesa C'è Frascatore In uscita Il Teramo Ha chiesto informazioni Ma non ci sono al momento Presupposti Per un approdo In bianco-rosso E passiamo adesso Al Teramo Che con una nota Nel tardo pomeriggio Ha ufficializzato La positività Al Covid-19 Di un tesserato Della prima squadra Il soggetto Regolarmente vaccinato Era già stato messo In isolamento domiciliare Per aver manifestato Sintomi simil-influenzali La società ha attivato I protocolli federali e sanitari Attualmente vigenti Ed ha annullato A scopo precauzionale La seduta Originariamente prevista Per domani Giovedì 30 dicembre Il Teramo comunica Inoltre che la ripresa Dell'attività programmata Per il 3 gennaio Sarà effettuata Con allenamenti individuali E contestuale Giro di tamponi E a proposito di Teramo Incontro interlocutore A Roma Tra Massimo Chierchi A Franco Iachini E l'amministratore giudiziario Per il momento La società biancorossa Va avanti Con operatività ordinaria Ad inizio anno Invece ci saranno Nuovi sviluppi Operatività ordinaria Con un mercato Che al netto Delle necessità Sarà fatto da entrate Solo in relazione Alle uscite Praticamente quasi A saldo zero Il Teramo chiude Il 2021 sul campo Nella giornata di domani Con l'ultimo allenamento Dell'anno E sul fronte societario Con l'incontro interlocutorio Di questa mattina Nel quale Da parte del custode giudiziario E' stata ribadita Al momento La possibilità Solo dell'ordinaria Amministrazione Con possibilità Ad inizio 2022 Di un'analisi ulteriore Delle carte E dei documenti In possesso Per cercare di valutare In modo più approfondito Quanto e cosa Il diavolo potrà fare Dunque La fumata E' decisamente grigia Tutto rinviato Questa è la decisione Dell'amministratore giudiziario Claudia Capuano Che ha ricevuto L'amministratore delegato Con delega La presidenza Massimo Chierchi E Franco Iachini Che detengono Rispettivamente Il 60 E il 40% Delle quote sociali Biancorosse Indubbio Che in un frangente Come questo Parlare di mercato Di riparazione E' assolutamente prematuro Il travaso di forgione Da fiuggia a teramo E' un'operazione Più di contenimento Che di miglioramento Il centrocampista 29enne Si sta allenando Agli ordini Di Federico Guidi E nei prossimi giorni Sarà tesserato Se ritenuto idoneo A dare una mano Al tecnico toscano Cosa potrà essere fatto Invece per dare Maggiore sostanza Alla rosa E' questione Che si intreccia Con logiche Che non sono più solamente Di tipo sportivo Ma vanno a braccetto Con gli sviluppi Riguardanti L'operatività Il teramo ha una cassa limitata L'obiettivo dell'incontro Odierno era quello Di chiudere il 2021 Con la certezza Di introiti Che potessero dare Maggiore stabilità Alla ripresa Dei lavori di gennaio Non è stato così Ma non è detto Che non potrà essere Nel prossimo futuro Per il momento Congelato tutto Anche perché domani Ultima sgambata Prima del rompete le righe Per capodanno Poi Ad inizio gennaio Le valutazioni Saranno fatte anche Su basi più certe Di quelle di oggi Aspettando sempre Che la commissione acquisizioni Partecipazioni societarie Della Federcalcio Si pronunci in maniera Definitiva Sul passaggio delle quote Stallo naturale Complici anche le feste Ma il teramo Non può aspettare All'infinito E chissà Magari Iachini Nella conferenza di domani Sull'avanzamento Del PEF del Bonolis Potrebbe dare Ulteriori novità in merito Prima di chiudere Una notizia di mercato Di serie di Colpo del Chiedi Che prende L'attaccante Victor Gomez Punta classe 1994 Dalla Caratese Gomez Che è stato anche Un ex giocatore Della Juve Stabia Argentino Con passaporto spagnolo Arriva in neroverde Per rinforzare La prima linea A disposizione Del tecnico Alessandro Luca Renni Luca Renni E con questa notizia Noi chiudiamo Questa edizione Del nostro telegiornale Vi ricordo I servizi che avete visto Sono disponibili On demand Sulla piattaforma YouTube E anche sul nostro sito web www.tv6.it Il TG6 Torna Con l'edizione Della notte Alle ore 23 Grazie per l'attenzione E buona serata Grazie per la visione